Nicola Gabbas evidentemente prima scherzava un po' sul messaggio che vi è andato, dice Grandi Pino Jack, un vostro paere su Hendrix, Gilmore, Knopfler, non tanto come chitarristi ma come cantanti No, non sono dei cantanti, ragazzi la voce non è uno strumento che deve avere un'estensione per forza la voce quando canti deve arrivare, deve arrivare a me la voce di Gilmore, la voce di Hendrix arrivano, l'altro chi era? Diceva di Gilmore, Hendrix e Knopfler Mark Knopfler, uguale e sono tre che cantano su tonalità bassissime voi pensate invece, poi sento quelli che urlano come dei disgraziati proprio e alla fine non ti arriva un cazzo qualcuno si è sicuramente